Allora, siamo qui allo stand di Shadow of the Tomb Raider e ci sarò non una, non due, ma tre Lara Croft, uno, due e una tre. Quindi chi è quella, vero? Cioè, praticamente, il sogno di ogni terza. Dai, lotta? Sperdiare la... Tu quale scegli? La uno, la tua, la tua? Io sono l'ambasciatore, non c'entro niente. Non apro il tuo idioma. È quella là, nel cartellino. No, io mi ammazzo. E effettivamente che fai? Faccio un coltellaccio, non la vedo. Però devo ammettere che per un ragazzo a cui piace Tomb Raider, passare di qua potrebbe essere molto, molto bene. Un'esperienza videoludica interessante. Adesso passiamo a qua. Questa non è che se ne è un muro, ma è che non abbiamo passato. Ma abbiamo passato, perché ci mancano. Abbiamo anche dei vecchi tempi, non c'è un altro dono, quindi per me non è Tomb Raider. Però hanno arco, cresce, che storia, c'è la piccozza. La piccozza è l'elemento del film, del gioco nuovo. Sì. La piccozza da chi ha? La bigossa. Per il momento, va bene, è tutto anche dall'ultima cavolata che ci stiamo. L'abbiamo voluti inventare. Dedicato a Shadow of the Tomb Raider e da Lara, Lara e Lara. Continuate a seguirci su gamesoul.it. Ciao ragazzi.